Sono Matteo Rossini, sono docente di Operations Management al Politecnico di Milano e responsabile scientifico dell'Ara 2 del MADE, quella dedicata alla logistica, alla Lean e al Digital Twin. Vi presento il corso Operational Excellence Toolbox che terremo qua al MADE nelle prossime settimane. L'obiettivo di questo corso è quello di portare le aziende a un livello competitivo maggiore per le loro operations. Il corso è quindi rivolto per figure manageriali legate alle operations, quali possono essere il direttore di stabilimento o il direttore di produzione ma anche figure molto più vicine alle linee produttive come possono essere l'ingegnere di processo, l'ingegnere di qualità o anche capi reparto. La peculiarità di svolgere i corsi al MADE è che si ha un imprinting sia accademico che molto pratico perché i docenti provengono sia dall'università che dai partner industriali del MADE. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!